Una proroga di una proroga, già il governo Gentiloni aveva prorogato, dicono di fare cose innovative ma stanno sempre a fare le stesse cose. Io avevo proposto un emendamento che risolveva il problema e non ero sola, l'aveva proposto anche Forza Italia, anche altre forze politiche e anche chi poi me lo ha bocciato al tavolo di lavoro della regione aveva convenuto che era la soluzione. Cosa proponeva questo emendamento? Di applicare la legge italiana sul de minimis e quindi di far valere il de minimis del 2011 quando la legge fu approvata, quella che riduceva il 40% e non la legge del 2012 che stabilisce invece un diverso de minimis. Allora approvando l'emendamento si svincolavano tutte le aziende fino a 500.000 euro e invece i sovranisti, quelli che dicono che con l'Europa vogliono fare la guerra, che avrebbero sfasciato tutto, che fanno? Si impauriscono anche ad approvare un emendamento che diceva interpretiamo la norma italiana, l'interpretazione autentica di una norma italiana e dicono invece che devono dialogare con l'Europa. Ma non vi sembra che c'è una schizofrenia evidente tra quello che dicevano pochi giorni prima di costituire il governo del cambiamento che su questa partita delle tasse avrebbero sfasciato l'Europa, Salvini voleva andare. E adesso un emendamento modestissimo condiviso da tutti, bocciato, proroga. Non basta questa proroga, ho già detto che nel mille proroghe devono fare un'altra proroga perché in pochi giorni, 60, con il mezzo agosto, ma se sono così succubi dell'Europa e vogliono andare a trattare che pensano che una vicenda così si tratta con l'Europa in poche settimane, non sarà così, ci batteremo ancora.